Tutto è nato con la guerra del volfo, di anni prima. In Inghilterra si utilizzava praticamente la farina di carne per l'allevamento bovino, che appunto dopo questo scandalo, l'alimentazione degli allevamenti sia dei suini che tutti gli allevamenti semplici, non si può più utilizzare derivati animali e nemmeno prodotti di scarto del cibo umano per alimentare questi animali, ma si possono usare solo coraggi e concentrati. Tutto è nato con questa guerra del volfo, che in Inghilterra utilizzavano queste farine di carne che venivano praticamente create, prendendo carcasse di ovvi capri, soprattutto scartate dalla produzione e riscaldate a una certa temperatura. La guerra del volfo ha portato a praticamente un inalzamento del prezzo del petrolio, perché c'era appunto questa guerra che aveva limitato le importazioni di petrolio. Cos'è che hanno fatto gli inglesi? Per risparmiare denaro hanno abbassato il tempo di cottura di questa farina di carne. Questo ha portato su che quei 5 minuti che risparmiavano in ogni preparazione, fino ad allora erano essenziali, senza saperlo, a distruggere questo prione, che è questa proteina modificata, praticamente indistruttibile. E senza quei 5 minuti di cottura in più, in poche parole, è riuscita a resistere al processo e quindi a essere trasmessa ai bovini. E da lì, dai bovini, che sono stati i primi ad ammalarsi, e il problema di questa malattia è che i bovini si ammalavano dopo anni, quindi anche di risalire alle cause, ha portato a un'indagine su larga scala. E ha portato a un sacco di confusioni, perché prima non si conoscevano questi benedetti prioni. I prioni si è scoperto che esistono in tutte le popolazioni, dall'odica prima, dove è praticamente nato, che si chiama Screpi, ad esempio, fino anche all'uomo, esiste anche un prione umano, praticamente. E' stato dimostrato soprattutto nelle popolazioni di indigene della nuova Papa Guinea, mi sembra. Ci sono popolazioni, se non sbaglio, che praticavano il cannibalismo e quindi erano... Secondo la religione, devono mangiare il cervello del parente e quindi questa malattia prionica era diventata praticamente endemica della popolazione. Grazie.